Una pianta sana, come un corpo sano, ha bisogno di un nutrimento corretto, adeguato. Crediamo quindi che il punto di partenza per la cura di un elemento vivo, come appunto una pianta, sia considerarla come un corpo umano. E' questa l'ispirazione che ci porta a lavorare con costanza per un'agricoltura moderna, capace di garantire la salute dell'uomo e l'equilibrio ecoambientale. Per questo ricerchiamo e produciamo con passione e professionalità, formulati innovativi a partire da materie prime accuratamente selezionati, con processi ecofrielli. Una propensione all'insegna del concetto di nutriresistenza, grazie a prodotti pensati per accompagnare le imprese agricole nella sostenibilità delle loro produzioni integrate e biologiche. Noi di SPA poniamo da sempre la qualità al centro di tutti i nostri processi aziendali, per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività svolte, soddisfare le aspettative dei clienti, instaurare un rapporto di fiducia reciproca con gli stakeholders, proteggere l'ambiente naturale e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Un impegno riconosciuto attraverso il percorso delle certificazioni volontarie, iniziato con l'ottenimento della ISO 9001, volto alla soddisfazione del cliente, e proseguito con la certificazione ISO 14001, che dimostra la sensibilità e l'impegno dell'azienda nel progettare prodotti a basso impatto ambientale, from cradle to grave, e quando possibile a riutilizzare i sottoprodotti nel ciclo produttivo, secondo i principi dell'economia circolare. Nulla è lasciato al caso, per il riconoscimento bio di alcuni nostri prodotti, il riferimento è BioAgricert, organismo di controllo e certificazione accreditato secondo lo standard internazionale IFOAM. L'essenza delle formulazioni SPA è insita nel concetto di nutriresistenza. Con questo intendiamo la capacità di nutrire adeguatamente le piante, incrementare le produzioni agricole e sviluppare la resistenza a qualsiasi tipo di stress ambientale. nutrire bene per resistere meglio. Per fare tutto questo, per operare bene, c'è bisogno di personale qualificato. Noi di SPA poniamo le persone al centro delle nostre azioni, in un continuo scambio di valori, all'insegna della qualità produttiva. La SPA, attraverso il metodo di ricerca e sperimentazione RIMPAS, ha messo a punto una gamma di prodotti che possono essere suddivisi in sei categorie. Biostimolanti BioPlant Protection Microorganismi Consorzi di microorganismi metaboliti Corroboranti Micro e mesoelementi chelati Macroelementi Grazie a tutti i nostri spettatori